Siamo votati Gesù e Maria, fratelli e sorelle carissimi. Oggi è una grande domenica, la domenica della Santa Famiglia, la festa delle famiglie. Guardando la famiglia di Nazareth siamo invitati a riscoprire la bellezza del sacramento del matrimonio e della famiglia cristiana. Io ringrazio quanti hanno accolto l'invito di essere presenti a questa messa per farsi un regalo grandissimo, che sarà la rinnovazione delle promesse matrimoniali. E' una cosa bellissima, una cosa meravigliosa. Io vi dico che da sacerdote sono felicissimo di essere sacerdote, ma quando vedo una famiglia, una bella famiglia cristiana, credetemi, vi guardo con sguardo di ammirazione, di gioia e partecipo della loro gioia, sono contento della loro contentezza. Quando vedo dei bambini dentro una famiglia mi fa un cuore grosso quanto una casa, ve lo dico proprio con tutto il cuore. Allora, meditiamo cinque minuti insieme su questo grande mistero. Allora, numero uno. La famiglia è fondata su un sacramento che San Paolo chiama il sacramento grande, magnum sacramentum. Ieri sera ho cercato di introdurre durante il domenico e diceva perché per il matrimonio c'è un sacramento. Come mai? Lo ripeto, l'omenia di ieri sera sta già online per chi interessa, no? Ma capiamo che significa che sia un sacramento. I sacramenti sono una cosa grosso, una cosa seria. Perché i sacramenti, fratelli e sorelle miei, sono atti di Cristo, sono atti divini, non sono come i nostri. Un pochino di esempi, intanto per farvi capire. Vediamo un po'. Una volta che noi veniamo battezzati, qualcuno si può togliere il sacramento del battesimo? Esiste qualche essere umano che è capace di sbattezzarti? Cosa pensate voi? È possibile? Voi sapete che ci sono alcuni poverini che non sanno quello che fanno e speriamo, perché i guai che passeranno davanti alla giustizia del Dio sono grandi, eh? Adesso c'è la moda di sbattezzarsi, cioè di fare le lettere ai parroci chiedendo io voglio essere sbattezzato, deve intervenire la cura, è tutta una procedura particolare, ma tu non puoi essere sbattezzato. Si può soltanto scrivere sul registro parrocchiale che tu non puoi avere niente a che fare con la Chiesa Cattolica e che non ti riconosci suo membro, un peccato gravissimo contro me, ma tu battezzato rimarrai per tutta l'eternità. Capite? Non si può togliere. Seconda domanda, c'è qualcuno che può togliersi il sacramento della Cresima? Qualcuno è capace di farlo? Terza domanda, se io consacro un ostia adesso, tra poco consacro, no? Nel Tapernaio che sono le ostie consacrate. C'è qualcuno che può sconsacrare un ostia consacrata anche da un povero? Se viene il Papa qua, dai, il Papa, oh, viene il Papa. Dice, io voglio sconsacrare le ostie che ha consacrato Don Leonardo perché non mi piace come ha celebrato la Messa. Lo può fare il Papa, secondo voi? Perché il Papa è molto più grande di me, eh? C'ha la pienezza del sacerdosio. No, perché? Perché quello è un sacramento. Io sono prete, giusto? Voi sapete, dice, ci stanno i preti che si spretano, si lisciano, e poi si sposano. Ma secondo voi sono proprio spretati i preti che si sono spretati, secondo voi? Cioè si toglie il sacramento dell'ordine. Questo lo dico anche per cultura personale. Sapete che succede quando un prete, come si dice, si spretano? Succede questo qui. Poverini questi miei confratelli, io prego tanto per loro, non vuole essere un uropano, no? Che chiede al Papa di essere dispensato dall'obbligo del celipato che nella Chiesa Latina accompagna il ministero sacerdotale per potersi sposare con qualcuna di cui si è innamorato. D'accordo? Il Papa può concedere questo indutto e allora quel prete, che cosa gli viene detto? Tu non eserciterai più il ministero. È proibito per te esercitare il ministero sacerdotale e non ci sta nessuna difficoltà a poterti sposare. Ma attenzione, quel prete rimane esercitato in eterno. Dovete sapere che il diritto canonico a quel prete impone, se quel prete vede un incidente e c'è una persona che sta morendo e l'avete quel prete, diciamo, spritanto che si è sposato, deve dargli l'assoluzione. E se c'è l'olio santo, deve dargli l'olio santo. Perché il prete rimane. Ma che succede invece quando due persone si sposano? Voi il giorno del vostro matrimonio siete entrati in chiesa, mano nella mano, siete entrati in due. E apparentemente siete ucciti in due. Avete fatto un bel rito, siete entrati in due e siete ucciti in due. Solo che c'è un problema. Che siete entrati in due e siete ucciti in uno. Non è uno scherzo, non è una battuta, non è una frase a effetto che sto dicendo. C'è avuto Leonardo Stato Medico che dice un po' di frasi così, che abbiamo, ma così. Si entra in due. Cosa dice Gesù? Che quando due si uniscono in matrimonio non sono più due, ma una cosa sola. Cosa va detto il sacerdote quando avete fatto il matrimonio? Vi ricordate un po' la frase precisa? Non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce. Attenzione. Non osi vuol dire non si azzardi perché con tutto il rispetto per le famiglie ferite capite bene il senso che sto dicendo. Devo fare qualche esempio per far capire. Se una persona divorzia, fa il divorzio, al sacramento del matrimonio sapete cosa gli ha fatto? Un baffo. Sono uno come quelli che vogliono. Non gli ha fatto niente. Non è possibile fare una cosa di questo genere. Il Papa non può sciogliere un matrimonio. Chiaro? Non può fare nessuno. Non c'è nessuna autorità che possa fare. Perché è un atto divino. È un atto di Cristo. Tu stai così. E quindi bisogna pensarci bene prima di mettersi così. Perché quello... C'è soltanto una cosa che lo può sciogliere. Qual è la cosa che può sciogliere questa unione? Ah, voi siete sposati voi. Non io, eh. Deve morire uno dei due. Che è come quando, no? Quando è che cessa la presenza di Gesù nell'ostia consagrata? Quando l'ostia consagrata viene... Consumata. Cioè, quando l'ostia consagrata, perdonatemi l'analogia, muore, diciamo così, perché è consumata da un figlio di Dio. Se no Gesù rimane lì. E nel tabernacolo... Per questo è che si fa la gemoflessione quando si entra in chiesa. Perché le ostie vengono riposte nel tabernacolo. Perché fino a quando c'è un'ostia consagrata, dice la presenza di Gesù. Però può togliere nessuno. Allora, capite perché è una cosa grossa questa. Fine della prima parte. Seconda parte. Adesso, tra poco, subito dopo l'omeria, vedo pure qua, tutti quanti i mariti e mogli presenti devono fare un ricongiungimento familiare antidistanziamento. Perché devono stare vicini, ben vicini l'uno all'altro. e riceverete questo foglietto qui, dove ci sono le promesse da rinnovare. Lo leggo un attimo con voi, così capire anche, no? Ma qui c'è proprio il ripasso. Questo lo dovete portare a casa, perché questo è il ripasso del programma della vostra vita. Il matrimonio serve a questo. A quelle cose che ci stanno qui dentro. Vi chiederò, come avete promesso nel giorno del matrimonio, volete continuare ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita. Parole grosse, eh? Cosa significa amare e onorare? Amare significa dare la vita, quindi spendere la tua vita al servizio di chi ti sta vicino. Onorare, sapete che significa? Vuol dire portare in palma di mano. Allora, posso andare dal mio amico a lamentarmi che mia moglie non la rego più? Proprio per essere concreti. No, non la stai onorando. Posso andare dalla mia amichetta a dire, mi marito, guarda, non so, porto più sbattere il muro. No. Posso mandarla a quel paese mia moglie e mio marito? Direi proprio di no. Non credo che sia onorare, no? O forse l'italiano, non lo capisco. Posso aggredirlo? Posso mangiarmelo vivo? Guardate che queste cose qui che ve le ricordo per quando le troverete davanti al nostro signore. A me mi chiede se ho fatto bene il prete e il pardo, ma te ti chiede se hai fatto bene la moglie o il marito perché gliel'avete promesso voi questo signore. È una cosa bellissima questa qui, eh. Capite? Tu pensa quanto saresti contento se sapessi o contenta e se vedessi che il tuo marito ti ama e ti onora sempre non ho mai parlato mai di te. Allora, se tu saresti contento, comincia tu. poi la fedeltà coniugale la fedeltà coniugale non è passata di moda, eh. Volete conservare il libato, il vincolo della fedeltà coniugale? Attenzione che non basta essere fedeli col corpo ma anche con gli occhi e anche col cuore perché l'infedeltà comincia sempre dagli occhi e dal cuore da quello che guardi da quello a cui pensi. e siamo capaci di insegnare per esempio ai giovanotti ci avete mai pensato spero che almeno ricordiate dal catechismo che la Chiesa raccomanda di arrivare i vergini al matrimonio che non si ha nei rapporti prematrimoniali ma ci avete mai pensato a uno dei perché? Perché? Perché la fedeltà a tuo marito e a tua moglie non comincia dopo comincia prima. Io non sono fedele soltanto dopo ma sono fedele anche prima perché nessuno mi avrà se non colui a cui io dirò ti amo e ti voglio amare di amore eterno. Chi arriva a avergi nel matrimonio può dire alla mia marita o alla moglie io sono stato fedele a te prima ancora di conoscere e poi stare tranquillo che te rimarrò fedele per tutta la vita. Ce l'ha mai pensato? Chi di noi non sarebbe contento di una cosa di questo? Chi di noi non sarebbe contento spero che molti di voi abbiano vissuto se lo sposo o la sposa stesse in queste condizioni. Lo so che è difficile d'accordo? le cose belle sono tutte quante difficili ma chi di noi non sarebbe contento se ci fosse una cosa di questo genere. Ancora volete accogliere liberamente con amore e con gioia la vita è una gioia i figli che Dio vorrà donarvi dono immenso del suo amore attenzione è anche segno della fiducia che Dio ha perso di voi avere una vita è un atto di fiducia nostro Signore ti affida una sua creatura i figli non lo avete mica fatti voi i figli voi li avete accolti l'anima di vostro figlio l'ha creato nostro Signore fare un affare un figlio non è soltanto una scelta da nulla perché attenzione quando nasce una vita questi ragazzini che stanno qui così come voi non saranno semplicemente uomini e donne tra cento anni cento venti a così ragazzini gli auguriamo lunga vita qui già sta più nessuno di noi state tranquilli e dove stanno questi ragazzini di oggi secondo voi questi dovremmo diventare cittadini del cielo capite voi che potete fare cioè un figlio non fatto è un cittadino del cielo in meno non è una cosa da niente capite l'atteggiamento positivo delle famiglie cristiane verso la vita certamente è un atteggiamento responsabile ma positivo capite che è anche un atto poi di amore verso tante povere famiglie ferite io non conosco tante che purtroppo non possono avere il dono della vita è una grande croce e vi dico che con tanto amore non è che sono tanto contenti di chi potendo avere la vita magari si chiude sapete come dice il proverbio popolare chi c'ha il pane non c'ha i denti e chi c'ha i denti spesso purtroppo non c'ha il pane e poi i figli educarli soprattutto nell'educazione religiosa si chiama di riscoprirlo quest'anno perché questi non sono soltanto esseri umani appunto sono cittadini del cielo e per arrivare in cielo c'è un cammino da fare e il cammino glielo insegnano i genitori e i figli prima di ogni altro e infine chiudo quante volte i vostri amici i vostri amici quante volte mi vengono a chiedere se loro sono una coppia di amici stanno a separare stanno a divorziare che posso fare che gli posso dire come posso aiutarli è difficile in tante parte che non bisogna mai questo mi raccomando noi stiamo parlando della bellezza del sacramento del matrimonio non si giudichino mai non si giudichino mai le famiglie ferite mai ci sono delle cose oggettive ma noi non possiamo entrare dentro la vita privata delle persone nel senso dentro il cuore sapere che è successo cosa non è successo quindi nix ma qual è la più bella cosa che si possa fare per una famiglia in crisi sapete qual è un'altra domanda che vi farò oggi volete testimoniare la bellezza e l'importanza del sacramento che avete ricevuto e questo servirà a fronteggiare tutto quello che sta accadendo tutti gli attacchi contro la famiglia cioè sapete qual è l'aiuto che si possono dare le famiglie in crisi dovete chiedervi se un mio amico vede la mia famiglia dice ma quanto è bello ma perché devo sfasciare una cosa così bella guarda questi come sono contenti se un giovane vede voi gli viene voglia che sposassero e poi dice ma tu cosa devo fare la fine di questo io non mi sposo capite i vescovi ce lo dicono pure a noi prete dice devo fare la pastorale vocazionale ma come fa la pastorale vocazionale oggi i giovani hanno un seminario ma quando è che qualche giovane si riavvicina al seminario se vedo un prete felice perché se vedo un prete depresso dice io devo diventare già ho paura da farmi prete a posto devo diventare come questo ma io sono scemo cioè la gioia è la felicità della nostra vocazione è l'aiuto più grande e la testimonianza più grande che possiamo dare bene io mi fermo mi rallegro con voi per questo dono ci prendiamo 30 secondi di pausa sia per fare un po' di silenzio sia per il ricongiungimento familiare per favore le coppie adesso alzino il ditino così Patrizia gli prende il foglio e subito rinnoviamo le comesse matrimoniali siamo notati Gesù e Maria dice la preghica che è l'ultima cosa perché dopo saranno benedette le fedi o portare le fedi è una cosa importantissima molto più importante di quanto si pensi è bruttissimo non portare la fede io se mi fossi sposato mi sarei offeso tantissimo sarei stato malissimo se avessi visto mia moglie senza senza la fede perché la fede non è una cosa tu l'hai ricevuta capito? cioè il giorno del matrimonio il tuo marito mi sono detto ricevi questo anello segno del mio amore e della mia fede e del tasimo rodolico ti sto dicendo a me non me ne importa niente e il tuo amore è bruttissimo poi c'è un altro riflesso perché se siete quei dici di essere sposati ma che te la portate con orgoglio con fierezzi una coppia che non porta la fede scusatemi è come un prete che non porta la donna che può almeno riflergine perché oggi se lo vuole portare a riflergine cioè senza giudicare nessuno ma l'immagine che si dà sembra quasi che tu le voglia nascondere capito? sembra quasi che tu non sia contento cioè la fede fa tre cose guardate primo ti ricorda a te che c'è il marito e la moglie il che non guasta secondo ricorda a tuo marito e a tua moglie che tu sei la moglie e il marito quindi c'è un messaggio per te per lui ma poi ricorda a tutti cioè questa è proprietà privata non è disponibile per nessuno è già è già stata presa quindi arrivederci non so se mi spiego capito? un prete vestito è riconoscibile in qualunque momento se una persona ha bisogno sapeste quante storie si raccontano alcuno vi racconta Don Pierpaolo quando va a girare in treno sapete queste quante cofiche succedono cioè se io fossi stato vestito in borghese poi lo non avrebbe riconosciuto non mi sarebbe venuto appannare no? capito? oppure in certe situazioni si scala che davanti a un prete qualche piccolo figlio di pittorio non c'era ma se tu non sei vestito e dopo sono cominciate a vestire mi ha diseguito con la mancia davanti che ne sanno non so se cioè i segni non sono assoluto ma sono importantissimi specialmente quando sono segni sacri la fede è un segno sacro non abbiamo detto anche oggi scusate oggi sono un po' perché ogni tanto ricordarci queste cose penso che faccia bene specialmente in questi tempi adesso cominciamo a fare le cose serie ricorrendo alla festa liturgica della santa famiglia di Nazareth esempio nel modello perfetto di santità del consorzio familiare siete venuti nella casa del Signore per rinnovare i compendi solitamente sanciti davanti all'antare perché la divina grazia vi confermi nel santo proposito vi invito dunque a rinnovare le vostre nuove e sei matrimoniali volete continuare ad amarvi ed onorarvi in un altro per tutta la vita nella gioia e nel dolore nella salute e nella garantia volete conservare il dipato il vincolo della fedeltà coniugane per il corpo negli occhi nel cuore per tutti i giorni della vostra vita volete accogliere liberamente con amore e con gioia i figli che Dio vorrà donarvi dono immenso del suo amore e segno della fiducia che hai in voi volete educare con dedizione l'amore i figli che Dio vi ha donato e vi doneranno sapevoli soprattutto dell'importanza dell'educazione religiosa che vi è impegnato a donare anzitutto con la vita ma anche con la testimonianza della parola si lo voglio volete testimoniare la bellezza e l'importanza del sacramento che avete ricevuto dinanzi a triste e continuo tentativo di sminuire la centralità e l'importanza della famiglia cristiana fondata sul matrimonio che oggi purtroppo è entrato nella mentalità comune anche di molti battezzati e disgraziatamente anche in molte leggi dello Stato ringraziate ora il Signore per la vostra sua prima vocazione ed elevate a lui la vostra benedizione dandovi come il giorno del vostro matrimonio la mano destra vi date la mano destra e lentamente cercate di andare tutti insieme non c'è volo dietro nessuno io adesso dancio e poi leggete la preghiera invocate la benedizione benedetto sei al mio tre con calma senza correre non ci abbiamo fretta uno due e tre benedetto sei tuo padre perché ci hai benignamenti assistiti e gli sei dei piedi e il resto della vita con la tua grazia a rimanere sempre fedeli e il rischio amore per essere di voi e i testimoni fatti e la grazia di Cristo Signore tornete con le mani unite Dio che custodisca in tutti i giorni della vostra vita sia vostro aiuto nella prosperità conforto nel dolore e colmi la vostra casa delle sue benedizioni per Cristo nostro Signore vi togliete le fedi per un attimo sono arrivato in alto accresce e il santino di amore in questi sposi che ricordano davanti a te il giorno santo in cui si scambiarono l'anello segni di fedeltà fa che sperimentino sempre più la grazia del sacramento russiale per Cristo nostro Signore aspettate un secondo che ne benedico non metti la maschera non metti la maschera